Ciao a tutti, Radio Bagano stasera è in diretta dal Borderline, dove si esibirà tra poco Rob Moir che è qui con noi. Hi Rob! Hello! Queste sono le uniche parole in inglese che mi sentirete pronunciare. Allora, come è nato il tuo progetto musicale e come si è evoluto nel corso del tempo? Come si è iniziato il tuo progetto musicale e come si è evoluto nel tempo? It started with an acoustic guitar and some songs that I wanted to play that were a little bit more quiet and melodic. So I started with that and I have two albums and a half album out. So, yeah, somehow in five years there's maybe 25 songs, so it's evolving very slowly. Ok, ha detto che hai iniziato con una chitarra acustica, quindi scrivendo delle canzoni molto melodiche e levite e poi piano piano due album e mezzo e quindi sta evolvendo molto lentamente. Come è nato invece il tuo nuovo album Adventure End Book? How did you write your new album? Well, it was very much inspired by two years of constantly traveling and playing something like 500 different concerts. And it was just sort of based off of what it's like to not be kind of in a normal life, you know? And so I don't know how to explain it any more thorough than that, but I suppose absolutely and just inspired by the things I was doing. È stato ispirato dal 2.200 anni di viaggi costanti e più di 500 concetti che ha fatto, infatti per una vita normale, quindi tutto ciò che ha fatto. Ricordiamo che Rob Moir è appunto in Italia per promuovere questo album Adventure End Book. Sei nuistato in Italia la prima volta che sei qui. You're here to follow up your new album. Is this your best time here in Italy? No, I think I've been here maybe five or six times now and very much in love with this crazy country. E' stato qui cinque sei volte e amo molto questo pazzo paese. Quali sono le prossime date in Italia, a parte quest'anno al Borderline? Quali sono le prossime giornate per fare in Paris? No, domani a Paris. E' stato poi dopo l'anno in Roma, Livorno. E' stato l'ultimo concerto in Torino, prima l'anno in France. Livorno è l'ultimo concerto in Torino, poi in Francia. Cosa ne pensi della musica italiana? Ho ascoltato un po' di musica italiana. Che dà pensi della musica italiana? Non, non, non. La musica italiana che ho mai sentito in mia vita è stato da stare in un'auto, in un'auto, e la radio stazione solo gioca 10 secondi per una canzone, e il signale lo perdono, e poi devi trovare un'altra radio stazione e lo perdono. Quindi non ho mai sentito un'altra canzone. Quali progetti sono i tuoi progetti per il futuro? Più di tour in Europa, in Canada e in Australia. E non ho mai sentito un lavoro reale. Grazie per essere stato con noi e per averci concesso questa intervista. Grazie, grazie. Ciao!